Noi siamo a Pennello Vallesina però, vedete il campo sportivo alle mie spalle perché c'è anche un altro problema, il ritorno alla normalità di queste persone passa anche dal poter votare nella giornata elettorale. Allora noi siamo con Fabrizio Mancini, Vigili del Fuoco di Ancona, avete allestito proprio qui questa struttura, ci spiega a chi è destinata? Intanto entriamo così la mostriamo. Con questa struttura che è stata realizzata da Vigili del Fuoco, addestrati proprio per il montaggio di questa struttura, in condizioni ordinarie sarebbe montata per ospitare Vigili del Fuoco in caso di emergenza, in questo caso proprio per ospitare il seggio elettorale. Quindi chi potrà venire a votare qui? Tutti i cittadini di Pianello, Pianello di Ostra, possono venire, è stato già allestito da parte del Comune il seggio elettorale in una delle tende predisposte di questo modulo di supporto logistico. Facciamo vedere. Ecco per cui è tutto pronto per poter metterlo a disposizione da domani pomeriggio al Presidente del seggio. Perché domani pomeriggio arriveranno ovviamente gli scrutatori, si comincia a lavorare e poi nella giornata di domenica si potrà votare. Ricordiamo che il seggio dove si sarebbe dovuto votare qui, una struttura privata che però viene messa ad utilizzo pubblico in queste circostanze, è stata allagata perché si trova proprio vicinissima a quel ponte sul Misa, insomma, che ha visto un punto brutto, veramente distruttivo dell'alluvione. E poi un'ultima domanda, possono votare non solo gli abitanti di Pianello ma anche le forze dell'ordine volontari che sono qui dislocati da altre zone? Sì perché siamo una bella struttura, un bel numero di persone che provengono anche fuori in regione, per cui dalla Emilia Romagna, dal Veneto, dalla Lombardia, per cui forze sia dei vigili del fuoco che della protezione civile. Per cui queste persone che sono state comandate a venire a prestare servizio in questi luoghi, possono domenica esercitare diritto di voto. E anche, citiamo anche l'esercito, anche loro possono votare qui. Allora per il momento è tutto, da questo seggio pronto per accogliere chi vorrà votare, Pianello di Ostra e vi restituiamo la linea.